Un cordiale buon pomeriggio e la prima del convegno sono due anni sul miglio, non corre Blanca Truppa, le numero 8 ne rimangono in 12, quindi in prima fila sono in 7, gli altri sono in seconda fila. 2,47 per il momento birbante di IBL. Gradatamente l'allineamento va a completarsi, siamo a 200 metri prima dello stacco, un allineamento più che buono, problemi per il 13, Bullen Run numero 13, perde l'allineamento, avvia la macchina in velocità, bomber alter dal centro, facile, al comando con allargo beware no off, poi di dentro abbiamo Bullmail, passa la leva del pigna e va al comando. Lancio redditizio 13,3 sul mio e così ora può già graduare al completamento della piegata e completa i 400 iniziali nell'ordine del 29,8 e davanti alle tribune Beware no off, un bel figlio di Pitagora B, conduce liberamente. In terza evoluzione Bullmail precede il 4 di Bombardino Font. Andatura brillante, 45 e mezzo i 600, i cavalli che affrontano la penultima curva. Non avvengono variazioni sostanziali, tentano la risalita e i cavalli a largo, ma per il momento Beware è al comando. 1-1 e mezzo in mezzo miglio, un po' di stop per riprendere fiato, si migliora a Birbante di IBL con Giorgio D'Alessandro Senior e Caterpillar che appariglia al 5 di Bomberhalter, chilometro in 16, 500 alla meta, i cavalli affrontano la curva finale con Beware no off al comando. 1-37-3 quarti di miglio, 15-6 di frazione. Viene via il ragioniere con il suo allievo e sarebbe Bomberhalter, è aggressivo Bomberhalter, ma sbanda ma ricci riprende, passa facile bomba, rinseguito da Bullmail. Tenta lo stacco definitivo Bomber, di nome di fatto, va di dentro Minopoli, è incisivo Minopoli, lotta incerta, il francesino porta a casa la vittoria. Fortunato è bravo, bravo è fortunato, trova il barco giusto al momento giusto, io ho 2-2-3 sul mio cronome, facciamo un 2-2 tanto per arrotondare, ma questo bel figlio di mago d'amore del team Minopoli, Saverio Cortese alla proprietà, Mario Minopoli in 1-1 Rinsalchi, 7-63 si inizia la grande, il team Minopoli, quindi peccato per Bomberhalter, sembrava ormai avviato verso la vittoria, ma il barco giusto al momento giusto, giustizia il Bomber. Per il terzo, dopo un po' molto tempo, l'undici di Barra Goudacar, che è cresciuto molto per la gioia di Di Muro. Di nello studio. Di Muro poi sarebbe sciupino, eh?